A Napoli non c'è bisogno di casinò, c'è bisogno di un progetto su Bagnoli, ne parleremo il 6 febbraio con il ministro per il mezzogiorno di Vincenti, era una battuta per dire che questa città vuole costruire altri centri di aggregazione, c'è bisogno di tanti investimenti ma non di un casinò. Dovrebbe essere il 6 febbraio, per adesso la conferma che ho avuto dal ministro in persona è il 6 febbraio mattina a Napoli in prefettura, riunione vertice, chiamiamolo così, riunione istituzionale, tavolo istituzionale in prefettura, modello patto per Napoli.